Non si era mai visto negli ultimi vent'anni sostenere le ragioni di una sola, dico proprio una, causa in Italia con la stessa vemenza e incrollabile fede che riponiamo nell'Ucraina in guerra. Non è stato fatto sulle morti sul lavoro, sullo sfascio della scuola pubblica, su un sud che cresce meno della Grecia, sul cambiamento climatico, sulla corruzione, l'evasione, la fuga dei giovani all'estero, nulla. La vittoria dell'Ucraina è l'unica soluzione possibile per salvare la civiltà occidentale, la democrazia, l'Europa e magari pure la ricetta originale della matriciana. È il pensiero unico bellicista e se non sei in linea sei più anti-italiano di chi si nutre di spaghetti col ketchup e pizza con l'ananas. Il problema è che rifiutando l'idea di qualsiasi compromesso stanno prolungando un conflitto che non ha soluzione militare. Stanno dopando l'Ucraina facendoli credere che il sostegno occidentale sia a tempo indeterminato, quando la lezione afghana sta lì ad insegnarci che l'Occidente risolve problemi irrisolvibili con l'oblio. Come in Afghanistan il rischio è che fra qualche anno, quando l'Ucraina definitivamente non potrà più sostenere lo sforzo bellico, non si potrà fare altro che accettare un compromesso e sarà peggiore di quello che si sarebbe potuto raggiungere dopo il ritiro da Kiev o negli otto anni precedenti. Nel mezzo decine di migliaia di vittime civili, la distruzione di un paese, miliardi da trovare per la ricostruzione, il caos economico globale, che ovviamente pagano come sempre i paesi poveri e i poveri nei paesi ricchi. Combatteremo fino a che l'ultimo soldato russo avrà lasciato l'Ucraina, dicono gli opinionisti con l'elmetto recitando il mantra del sindaco di Kiev, che è un pugile abituato alla logica del K.O., che qui però non funziona perché le riprese non sono undici e il gong potrebbe non suonare mai. Ma tutti quelli che oggi sostengono che qualsiasi compromesso che tolga un centimetro all'Ucraina sia un oltraggio solo a pensarlo, quando il compromesso sarà inevitabile? Cosa diranno? Faranno una giravolta come con Di Maio, che da essere bullizzato in quanto Bebitaro oggi magicamente viene riabilitato come statista? Sono stato bravo eh, stavolta. E grazie a cazzo, mica solo parole mie. Gli ho scippato da un lungo thread di uno dei pochissimi che riesce ogni tanto a farmi dimenticare quanto sia imbarazzante oggi in Occidente quando ti chiedono che lavoro fai dove rispondere il giornalista. È Nico Piro, storico inviato di guerra della Rai, che ha deciso di riassumere la sua lunga e intensa carriera in due libri usciti da poco. Kabul crocevia del mondo, dove ci spiega perché quella in Afghanistan è una guerra universale, che racconta il fallimento delle armi come strumento di risoluzione delle controverse, e maledetti pacifisti, dove ci insegna a difenderci dal marketing della guerra, perché la guerra è un prodotto. Ne parliamo direttamente con lui oggi, mercoledì 29 giugno alle 18 in diretta sul nostro canale Twitch. Un'altra bella occasione per spengere la tv e accendere Ottolina. E se di questa occasione ne volete sempre di più, continuate ad aderire alla nostra campagna di sottoscrizione su GoFundMe. Troverete tutti i link nei commenti e nelle bio.